Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rigettato la risoluzione presentata dalla Russia a sostegno del piano di Stefan de Mistura. Solo 4 voti a favore, Russia, Cina, Egitto e Venezuela. La Russia ha quindi posto il veto sulla risoluzione avanzata dalla Francia che chiedeva all'immediato cessato il fuoco su Aleppo e una no-fly zone che avrebbe impedito a Mosca e all'esercito siriano di liberare i territori ancora occupati da 8.000 combattenti venuti da tutto il mondo. Il documento con 11 sì, 2 voti contrari, Russia e Venezuela e 2 astensioni, Cina e Angola, avrebbe consentito un'altra operazione propagandistica per incolpare siriani e russi della ripresa dell'ostilità contro terroristi che si cerca di far passare per moderati, gli stessi che si divertono dei capitare bambini dodicenni. L'intenzione di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti non è quella di salvare i siriani, bensì quella di cambiare al di fuori della legge il potere in Siria. Ma per Mosca è inammissibile lasciare la Siria al destino subito dall'Iraq e dalla Libia, perché l'invasione di questi paesi ha avviato la destabilizzazione del Medio Oriente, la nascita dello Stato Islamico e la rincarnazione di Al-Qaeda in Al-Nusra. Mentre il coro dei media tira fuori uno scheletrino dall'armadio di Donald Trump facendolo diventare un delitto mondiale, passa del tutto in secondo piano la rivelazione di Wikileaks con le ributtanti trascrizioni dei discorsi a pagamento, che Hillary Clinton pronunciava presso i pezzi grossi di Wall Street, ai quali teneva a dire «mi sento molto lontana dalla classe media». E intanto prometteva loro l'esatto opposto di quanto promette il popolo bue, la protezione incondizionata dei super ricchi. Per questi servigi si calcola che abbia ricevuto quasi 26 milioni di dollari. Intanto si fa sempre più ampia la fronda repubblicana che in queste ore sta chiedendo l'uscita di scena di Donald Trump, che però non molla. Al secondo dibattito televisivo vince ancora Hillary, ma in misura minore. La politica USA è in una crisi drammatica, con due candidati alla presidenza squallidi e deboli, laddove l'unico centro di comando con effetti decisionali veri al momento risiede al Pentagono. E l'unica fonte di legittimazione vera risiede nel denaro della grande finanza. Piccolo problema aggiuntivo, che si perde nel coro russofobo dei media. Il Pentagono è in mano a gente che sta prendendo decisioni che rendono possibile, sin d'ora, una guerra tra Stati Uniti d'America e Russia. Che capite bene, non è come le altre guerre. Orrore senza fine nello Yemen. Sabato 8 ottobre l'Arabia Saudita ha bombardato una cerimonia funebre compiendo una strage, dai 150 ai 300 morti in base alle fonti. Nessuno ha chiesto il cessato del fuoco, mentre Teheran è disposta a entrare in azione per la cura di oltre 500 feriti. E tutto ciò recita il comunicato dell'Iran, mentre alcuni Stati, che sostengono di essere i paladini della difesa dei diritti umani, continuano a osservare in silenzio. La civile Arabia Saudita è il nostro alleato in Medio Oriente. Perciò l'Occidente non si deve scandalizzare se le vittime delle bombe non sono tutte uguali. Dietro fronte del governo May sulla proposta di rendere pubblico il numero dei lavoratori stranieri impiegati dalle aziende britanniche. Nata dalla ministra dell'interno Amber Rudd, la proposta seguiva un discorso infiammato di Theresa May improntato sul patriottismo ed orgoglio nazionale. Dopo un coro unanime di proteste provenienti anche dalle fila degli stessi Tories, la ministra è stata costretta a retromarcia. È ripugnante, molto simile a tatuare numeri sugli avambracci, commentano dei parlamentari. Ma i dati, anche se non pubblicati, verranno usati lo stesso, ufficialmente per monitorare le competenze britanniche mancanti. Sta di fatto che il mantra del «prime i britannici, poi gli stranieri» ormai è diventato un massa del governo, che usa la retorica di un morente UKIP andando oltre. Il partito di Nigel Farage, infatti, sembra morire a vantaggio di un partito conservatore sempre più xenofobo.